Era il signor Conte, il suo primo ministro, che ha chiamato perché ha chiesto di, come dicevamo prima, l'ordinanza va coordinata con il ministro della salute dicendo, siccome hanno intenzione domattina di emanare degli indirizzi di carattere nazionale cui chiedono le regioni di attenersi, ci hanno chiesto di sospendere l'applicazione, anche la firma dell'ordinanza, al confronto che ci sarà domattina. Domani mattina coordinamento nazionale del governo con le regioni per indicazioni nazionali sulle misure da adottare per l'emergenza coronavirus. La conferenza stampa nella sede della regione Marchi è venuta all'interno di Palazzo Raffaello per presentare l'apposita ordinanza regionale che prevedeva lo stop per scuole e manifestazioni pubbliche fino al 2 marzo, è stato rinviato da una telefonata del Premier Conte al Presidente Luca Ceriscioli per annunciare il coordinamento nazionale. Il contenuto dell'ordinanza della regione che stava per diventare quasi esecutiva è stata interrotta e verrà aggiornata sulla base di indicazioni governative. C'è stata questa comunicazione con Giuseppe Conte, il primo ministro, che domattina farà un coordinamento di tutte le regioni proprio per dare a queste ordinanze un indirizzo di carattere nazionale. Noi siamo pronti, abbiamo già predisposto tutti gli strumenti, è chiaro che quelli di carattere più sanitario resteranno sicuramente valide, le parti che entrano in discussione sono soprattutto quelle che riguardano le scuole e manifestazioni, quindi è quegli aspetti più impattanti sulla comunità che probabilmente verranno regolati con indirizzi di carattere nazionale. In attesa della riunione di domani di coordinamento, la regione Marchi ha istituito il numero verde 800-936677 con quattro linee dedicate dalle ore 8 alle ore 20, attivo da domani 25 febbraio per informare i cittadini sull'emergenza coronavirus e sui comportamenti da adottare. La telefonata registrata con la voce del presidente della regione illustrerà le linee guida raggiungendo anche quelle persone in particolare anziane che non utilizzano social network o internet. Le persone precise a Ceriscioli in caso necessitano di informazioni devono telefonare prima al proprio medico o al pediatra e poi eventualmente rivolgersi al numero verde. Nelle Marche non ci sono al momento casi certi di contagio da Codiv 19 ma risultano situazioni in corso da verificare in continua evoluzione. Intanto la psicosi da contagio si manifesta sempre più anche a Fano dove sono richieste nelle farmacie mascherine e gel igienizzanti. Ad oggi quanta richiesta avete per quanto riguarda le mascherine? Altissima, mascherine e gel igienizzanti mani sono i prodotti che vanno per la maggiore al momento. Quali sono le tipologie più opportune di mascherine che si possono utilizzare per fronteggiare un eventuale coronavirus? Quelle con all'interno il filtro al carbone attivo sono quelle ideali da utilizzare. Verranno rifornite queste mascherine? Al momento c'è una scarsissima disponibilità del prodotto, noi le abbiamo continuamente in ordine per cercare di fronteggiare la richiesta però non sappiamo quando saranno disponibili e se torneranno. Con questo coronavirus dubbiamente stiamo toccando dei momenti un po' particolari, la popolazione è un pochettino non informata bene, un po' impaurita. Abbiamo visto un'affluenza notevole rispetto agli altri lunedì, alle altre settimane però non c'è stato l'accapparamento. Una signora ha acquistato un prodotto e mi ha voluto pagare col Bancomat. Io di conseguenza cerco di prendere questo Bancomat per inserirlo nel post. A quel punto si è bloccata e mi ha detto assolutamente non mi tocchi. Io sono rimasta così, non sapevo che cosa dirle. Dico ma allora che cosa devo fare? Ah dice ci penso io perché l'ho parso con il contactless. Dico faccia lei ma mi raccomando non mi tocchi. Dico eh faccia lei. Dopo di mezz'ora ritorna la mamma a comprarle lo stesso un altro pacco e si comporta allo stesso modo. Dico loro signora faccia lei e se vuole venire dietro abbiamo una cassiera nuova.